Visto il successo dell'ultimo video, ho deciso di replicare la sfida sull'orecchio assoluto. Infatti selezionerò un brano a caso da questa playlist di musica pop e lo riprodurrò senza nessun tipo di taglio del video sul mio pianoforte. Pronti? Mi giro così non guardo la scelta. Ok, forse ce l'ho. Grazie a tutti. Grazie a tutti.